Un altro simpatico tag Bene amici, bene Ciao a tutti Sì, brava, brava Benvenuti nella nostra cucina virtuale Brava, dico Oggi siamo qui per un altro simpatico tag Sì, veramente Lui è felice Viene da ridere solo a pensarci E il tag l'ho inventato io Diciamo che ho parafrasato Dei tag che ci sono in video su YouTube E li ho coniugati al food Brava, soprattutto quando lo inventa ombretta Potete stare certi che sarà una cosa breve Sono solo 12 domande Allora, il tag si intitola Dovresti fare secondo me dei quiz Cioè tu dovresti creare quei quiz Tipo per le assunzioni statali Queste cose così di test Tipo quanto è lunga la coda del topo Ma dipende, qual è il topo Allora, andiamo avanti Cominciamo malissimo Già ride prima di cominciare E non conosce le domande Il tag si intitola Se fossi Siamo seria Facciamo i seri Lo vuoi in inglese E se fossi food Perché mi piaceva come stava Però è Se fossi cibo Me manierei Bello Bello Se fossi food Se fossi cibo Domande scritte rigorosamente A mano E cominci Allora Se Non guardare che ho già scritto le mie risposte Se fossi un biscotto Ah no Naturalmente Io però decido cosa sarebbe lui Se fosse qualcosa di quelle che elenco E lui deve dire a me cosa sarei io Quindi è un se fossi invertito Quindi io dirò Se tu fossi un biscotto saresti E lui dirà Ok Allora inizia tu Se io fossi un biscotto Allora Se tu fossi un biscotto Non aggiungere subito Saresti un brutto ma buono Brutto ma buono Ma non brutto dal punto di vista estetico Bene Già mi hai fatto incavolare No Ecco per questo Perché saresti uno di quelli così burbari e cattivi Che poi dentro ha un cuore buonissimo Tutto di cioccolata Uno di quelli ruvidi fuori Ma dolcissimi dentro Un brutto ma buono Però lui è anche bello Però non bruciato No 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 Ho fatto bene Diventa pure schifoso E se io fossi un biscotto cosa sarei? Tu secondo me saresti un pan di stelle Un biscotto pan di stelle Un biscotto pan di stelle Sì 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 Non ti dico una macina Perché sennò ti direi che sei pesante Ma perché Devi argomentare Perché è un pan di stelle? Perché mi piacciono i pan di stelle Amore E quindi mi piaci tutto Ah no perché è tondo? No Sono tutti i tondi biscotti Ok No I crumiri Tranne i balsen I balsen Il signore vuole un balsen Giuro non si droga Io ve lo giuro Forse sono gli zuccheri alti Se tu fossi una merendina Se tu fossi una merendina Rispondi tu? Se io fossi una merendina No se io fossi una merendina Sì 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 tu Allora se tu fossi una merendina Saresti una girella Perché stai menzionando tutte cose Tonde e tozze E allora Che ripieni E allora Cos'è la girella? E perché la girella? Allora mai le hai detto La girella Perché la girella al suo interno Nasconde tante cose Cioè è una È una di quelle merendine Sì è una di quelle merendine Che Puoi anche giocarci Prima di mangiare Quindi Ah questo secondo Va bene E io Tu saresti un soldino Un soldino Perché? Perché non ne fanno più Benissimo Perché è vintage E perché era buonissimo Mi sono emozionato Hai visto che sono buona? Eh sì Poi poi Se io fossi un tipo di caffè Un tipo di caffè Se tu fossi un tipo di caffè Saresti sicuramente un cappuccino Un cappuccino Un cappuccino Perché? Un cappuccino Perché? Perché Sei un insieme di tante cose Quindi il cappuccino Si fa anche con il latte Poi c'è la schiuma Che monta Stai nominando tutte cose grasse Buono buono È buono il cappuccino Il cappuccino Allora Se tu fossi Il cappuccino piace a tutti Ecco E quindi tu sei una persona Che piace a tutti Ma insommina Sì 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 Anche quei pollici in giù Va bene Allora Se invece tu fossi un tipo di caffè Saresti un caffè Sai quelli che vendono alla Lint Tipo i caffè alla Gianduia Quelli che sono Già fatti Non è caffè semplice Sonubile No Un caffè alla Gianduia È un caffè che ha La parte liquida Di caffè sopra E poi sotto la crema alla Gianduia Ah vero Sì 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 Che tu mescoli La parte sopra rimane sempre amara Quando bevete questo tipo di caffè Sì è vero Anche se lo aggiri La parte sopra rimane sempre amara Perché poi lo zucchero scende sempre sul fondo E di Gabriele è così Sopra è liscio e amaro Proprio liscio nel senso siciliano del termine Con la liscia La liscia è una sorta di Come si traduce tra liscia? Brava Come si traduce? Una voglia di non prendersi mai sul serio Esatto no? Di vedere Non scherzoso Tra il lavativo No 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 Ma tutto in chiave simpatica Ma non c'è simpatia nell'essere indolente No se fai l'indolente in maniera simpatica Non l'indolente nel vero senso della parola Comunque mi fai parlare Sono d'accordo La traduzione è errata Comunque con un po' liscio sopra E amaro Certe volte ruvido come vi dicevo prima No luvido Certe volte ostico come vi dicevo prima E poi tutta la dolcezza sta sul fondo Devi avere la pazienza di arrivarci E di prenderla col cucchiaino Sì No di arrivare al fondo delle cose Ma poi rimane nel fondo Devi prendere il cucchiaino per forza Andiamo avanti Va bene Allora Se tu fossi un frutto Se io fossi un frutto Cosa sarei? Un'anguria Dai Non lo sta facendo apposta Mi vuole insultare Perché sei piena d'acqua No Se tu fossi un frutto Una fragolina Una fragolina di bosco Una fragolina di bosco Sì Perché? Perché sei piccola e dolce Potremmo dire l'anguria Ma non l'ho detta l'anguria L'ho detta l'anguria Allora Invece se tu fossi un frutto Saresti Non vuole leggere le mie risposte Perché ho scritto le risposte Man mano che facevo le domande Oh belli questi tagli Se tu fossi un frutto Saresti una macedonia No Veramente Perché sei un casino Ma con o senza banana? Con la banana? Con la banana L'importante è questo Ma proprio Ha tanti piccoli tocchettini La banana No Perché sei un casino Un caos È la persona più confusionaria Caotica Ordinatissimo Ma sapete quell'ordine dei pazzi Che tutto deve essere a suo posto Però Poi lui È un casinista In tutto il resto Cioè lui qua dentro Ha il caos E allora Lui è una macedonia Perché tanto di tutto È tutto disordinato qua dentro Allora Se fossi una torta Che torta sarei? Tu che torta saresti? Allora secondo me Saresti un tiramisù Tiramisù è una torta? Tiramisù è una torta È un dolce No è un dolce Allora Una torta al tiramisù Perché? Una torta al tiramisù Perché sei Ti tiro su No perché Sì sì Mi chiedi su E poi sei Pannosa Ma la panna C'è la mascarpone Cioè sei morbida Come il mascarpone Poi all'interno ci sono quei Piccolissimi pezzi di cioccoli Che è uno Ed è Il bello del tuo carattere E poi c'è il caffè Che è quella parte Un pochettino Aspra del tuo carattere Ma che poi Infine Riassumendo tutto E dando quella Bellissima cucchiaiata Tutto nell'insieme Fa pensare a te Mi spaventa Quando è poetico È serio Mi spaventa Se tu fossi una torta Invece Sarei? Una cosa? Una zuppa inglese? No Saresti Potresti essere Una zuppa inglese Ma no Saresti una torta gelato Torta gelato Perché? Perché sei fresco Ho capito Sei una persona Hai un animo Fresco Ristorante Non ristorante Che te se magna Ristorante nel senso Che ristora La persona Che sta accanto Io ristoro Gli ambienti Vero? No No Distendi le persone Cioè Sapete Quei caldi pomeriggi Estivi In cui siete affannati Non ce la fate più Visitete un tavolino Di ferro battuto Bianco Con quelle sedie Tutte quante Ti farò battuto Nero Che è bello Bollente Che vi lascia I disegni E vi viene servita Una bella fetta Di torta gelato Del vostro gusto preferito Ecco Questo è Gabriele Ecco È l'attimo Di ristoro In una giornata Piena di cose Ma sono Torta gelato O cono gelato Torta Importante Non essere coppetta Se io fossi Un primo piatto Un primo piatto Una lasagna Una lasagna Perché? Sempre per il solito Disposto Ma non puoi dare Tutte le domande Le risposte uguali Ma perché tu Ti nascondi Dietro gli strati Bisogna un attimino Separare tutti gli strati Per capire In fondo in fondo Chi sei veramente Così è il coso Cioè non è che Se tu pigli Un singolo strato Del coso Della Cosa si chiama Della lasagna Ti piace Devi assaggiare Sempre tutto Perché hai detto Una lasagna? È la prima cosa Che ti è venuta in mente Di la verità Dai No guarda Sai che cosa? Ecco Ecco no Perché mi stai rispondendo Quelle cose che gli piace Seriamente Seriamente Un bel piatto Di spaghetti al pomodoro Una cosa semplice Se molto semplice Buona Ma al tempo stesso Guardate Gli spaghetti al pomodoro Sono sempre Una cosa difficile Da preparare Quindi Nascondono Quella difficoltà Nella banalità Benissimo Ti è piaciuta questa risposta? Sono una persona banale Ma non troppo Ma Però A spaghettate Tu invece Saresti un piatto Di pennette Alla boscaiola Ma no Di cannelloni No Pennette Alla boscaiola La smetti Saresti delle pennette Alla boscaiola Perché voi Non lo sapete Ma Gabriele Ha un animo Da montanaro Lui cresce Invitatemi in Trentino Ti prego Ho bisogno di natura Lui ogni tot di tempo Ogni fine settimana Vorrebbe andare in montagna A una casetta a Milo E indossare le sue stupende camicie A paretti Brava E i suoi bellissimi stivaletti Timberland Con il suo simpaticissimo Coltellino Vittorino Sa cercare funghi Anche ad agosto Diteglielo che ad agosto Ad agosto Ci possono essere i funghi Anche a luglio Lui vorrebbe castagne A giugno Lui è un tipo da montagna E si diverte Si diverte Lui è uno che arrostisce Sulle tegole Ragazzi Lui è un bucolico Diciamo così Un montanaro Con le sue belle bretelle Lo dovreste vedere Qualche volta Vi faccio una foto Con la camicia A quadretti Le Timberland E le bretelle E questa barba E lì manca l'ascia E i sette nani attorno E poi sarebbe il guardiacaccia Va bene Detto ciò Se fossi Se io fossi Uno strumento da cucina Cosa sarei Una bilancia Perché stai sempre A pesare tutto Stai sempre a pesare tutto Sempre Bilancia Anche le parole Anche le parole Pesi sempre tutto Sei sempre che pesi E pesi anche gli altri Pesi Pesi sempre gli altri Giusto? Disposto bene? Vero E ora Tu saresti una moca Una moca? Sì 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 Sapete la moca E alla fine la moca Quando proprio la fai Surriscaldare Che fa così Perché lui borbotto Ma quel borbottare Vuol dire che è pronto Quel nettare squisito Che è il caffè Diciamo che è uno che borbotta Ma che alla fine Dà cose buone Dal suo borbottare L'avete capito Che è un brontolone Sapete cosa dico io Gabriele Che lui da grande Sarà uno di quei vecchi Seduti sulle panchine Col bastone messo qua Col mento appoggiato Che insulta tutte le persone Che passano E ha a che dire su tutto Guarda quella come è vestita Io le lo dico in dialetto Talia chieda Comusi cumminau Bah Non c'è più religione Lui sarà così da vecchio Io già lo so E allora Un borbotti Lui borbotta sempre Se fossi un secondo piatto Cosa sarei? Un secondo piatto? Un secondo piatto Dico il mio? Sì Tu saresti uno stinco di maiale No grazie Perché tu sei un maschio senza fronzoli Saresti uno di quei cibi Che si mangiano così Presi dall'osso Tipo molto medievale Uno stinco Lui non è un maschetto E tu invece Brava brava Mi hai fatto venire in mente la tua Tu saresti un piatto di ostriche Ostriche è il secondo? Sì Anche antipasto Anche antipasto Un piatto di altro Vabbè ce lo accogliamo come secondo Ti piace? Perché sono un mollusco Beh no No perché sei un cibo raffinato Per pochi Per pochi intenditori Quindi anche in pochi ti capisco Perché se no l'alternativa sarebbe potuta essere Perché sono viscida Perché sono mollusco E perché a lui non piacciono No veramente No giuro Tu sei malapensante Se fossi un elettrodomestico Non uno strumento da cucina Un elettrodomestico Quindi frigorifero Fuochi Lavatrice Se fossi un elettrodomestico Un forno a microonde Cosa sarei? Un forno Un forno Perché come il forno Sei un tipo molto caliente E partorisci cose belle dopo tanto tempo Sei un tipo creativo Dal forno sono cose creative Ho capito Tu invece saresti fuochi Benissimo Sempre in mezzo Se non stai attento ti scotti Però il gran con i fuochi È anche la parte più importante Della cucina Perché si cucina Quindi abbiamo fatto la stessa Meno male che non abbiamo detto frigorifero È vero Se fossi un ristorante Che ristorante sarei? Una buona pizzeria Mi piace la buona pizzeria Una buona pizzeria Sì perché nella buona pizzeria C'è la pizza buona C'è la pizza buona E a te piace la pizza? La buona pizzeria Perché la pizza è sempre una di quelle cose Che sembra una pizzeria a farla Ma invece è difficile E quando riesce bene È veramente buona E poi è il giusto mix Tra un posto che non è Né troppo raffinato Né troppo Terra terra Invece tu saresti una mensa Una buona mensa Ma una mensa Perché lui è molto Aperto a tutti Cioè Gabriele sa stare con tutti veramente Ma con tutti Tutti E sta con tutti No Ma sta con tutti Allo stesso modo Che è il suo modo Diciamo che Dico una mensa Perché lui può sedersi a tavola Col principe O con Chiunque altro Ed essere sempre Se stesso Bravo E soprattutto una mensa Mi piace Una mensa Barra self service Diciamo così Perché Mi piace Perché ognuno è libero Di scegliersi il pasto che vuole Cioè lui è per la massima libertà Per la tranquillità Per l'essere easy Asciugiamoci Asciugiamoci il muso Sulla tovaglia Sulla manica della giacca Anche sul colletto No Però lui Se vedesse uno Che davanti a lui Che ne so Si asciuga Sulla manica Della tovaglia Mentre io rimarrei un attimino Sulla manica della giacca Mentre io rimarrei un attimino Tramortita Lui si farebbe Una fracassata di risate E magari direbbe Ma lì Sta quello Capito Lui è così Una mensa Self service Una mensa Però dove si mangia bene Dove si sta tranquilli Ok Poi Se fosse una stoviglia Una stoviglia Un flut Saresti Perché sei alta Come un flut E poi il flut Accoglie solamente Cose buone da bere Cose buone E raffinate da bere Tu saresti Sicuramente Un coltello Vittorino Ah grazie Lui è fissato Ragazzi Non è pubblicità Vi giuro È fissato Ha una cosa come Quattro coltelli Da boscaiolo Sapete quelli Un multiuso Io ne ho regalato uno Una volta che ha Tipo 30 accessori Non so C'è anche la sigherina Dentro che lava i vetri Un coltello E per Una sera Siamo usciti Siamo andati Nella via principale Della nostra fitta Vietnea In una traversa Se fossi un panino Bello questo Se fossi tu un panino Secondo me Se tu fossi un panino Saresti tipo un panino Del carrozzone Quello dei camion Dei panini E saresti Cipolline Enagrodolce Viustel No no Sì Un quarto di cucidato Prendete appunti Perché è un panino Fantastico Olio Cipollina Pomodoro Tonna a tranci E qualche oliva nera Chiuso E si mangia Un classico Intramontabile Che quando lo mangi Fa un casino Pazzesco Perché ti cascano Tutti i pezzi La cipolla esce Però è quel panino Che tu ti chiedi Ma se fa un casino Perché lo rifai Perché è buono E dopo tutto È genuino Fatto di cose semplici Antiche Di cose che non fanno male Non come il panino Che ha descritto lui Che dopo ti deve andare a ricoverare Per disostruirti Non è vero Non è vero Ma è un panino Che è Velace Velace Come è il mio marito Che ho dipinto Come una sorta di Viene dipinto Come una sorta di Tipo Uno preso dalla strada Così non lo so No 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 Sei uno Allora Se tu fossi cibo È vero Saresti street food Ma non street food Nel senso Di cibo deprecabile Cibo da strada O cibo poco genuino Ma saresti Una persona pratica Una persona Genuina Una persona buona Una di quelle cose Che ti dà soddisfazione Quando la mangi E costa poco E costi poco Sì 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 Nel senso che non ha grandi pretese Lui basta che la persona Con cui si relaziona Sia una brava persona Ed è giusto così Io condivido Non a caso L'ho voluto sposare Una cosa buona Ecco tu sei una persona buona Brava grazie Se io fossi food In generale Cosa sarei? E te l'abbiamo fatto Tu sei street food Io cosa sono? Novel cuisine Tu Beh tu sei Sperimentale Fusion No 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 perché a me Ste cose piccole e riduttive No fusion non è No cos'è cos'è Fusion sono varie cose No no Lascia stare Lascia perdere Se tu Te l'ho detto Vabbè basta Non sei risposto Anche tu street food Brava Perché per le stesse cose E quindi Basta Allora fateci sapere Se vostro marito È salsiccia Oppure no Eh no scusate Se vi va Rifate il video Fatelo circolare Siete tutti invitati Se foste cibo Cosa sareste? E cosa sarebbe La persona che vi accompagna? Che cibo sarebbe? Siete tutti taggati quindi I nostri amici I nostri non amici Quelli là del pollice in giù E soprattutto Quelli del pollice in su E mi raccomando Condividete il video Vi prego Perché se no Qua chiudiamo i battenti Non possiamo pagare l'affetto Come facciamo? Ci chiudono qua La telecamera Ce la chiudono E poi E anche voi Che non avete un canale Rispondete tra i commenti Alle domande Che vi piacciono di più Vi mandiamo un grande bacio Grazie per averci tenuto compagnia E mi raccomando Ci ritroviamo sempre qua Suose favole Ciao